Un premio alle imprese capaci di performance straordinaria in difficili contesti competitivi come quello della pandemia. È l'obiettivo di Eccellenze d'Impresa, il progetto promosso da GEA, consulenti di direzione Harvard Business Review Italia e Arcafondi SGR. Il premio assoluto 2020 è andato a Caffè Borbone, che si è aggiudicata anche il riconoscimento, crescita e sostenibilità. In realtà abbiamo avuto la capacità di evolvere seguendo l'evoluzione del mercato, cercando di essere sempre un filo in anticipo senza mai esserlo troppo perché poi dopo diventerebbe una posizione dannosa. Ad oggi siamo il principale produttore di caffè in monodose in Italia. Specializzata nel caffè porzionato, 24 anni di storia, la Caffè Borbone nel 2018 ha deciso di farsi affiancare da Italmobiliare, Investment Holding italiana, con l'obiettivo di assicurare all'azienda una visione a lungo termine. Penso che la chiave di successo sia proprio questa, un blend straordinario dell'imprenditorialità italiana con anche però quei tratti della grande azienda quotata che porta certe qualità e certi processi che all'interno non erano ancora ben visibili. Quindi grande complementarità siamo stati molto delicati direi perché l'azienda va molto bene, è inutile intervenire là dove l'azienda è già eccellente.